Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Oggi faremo delle partite in sopravvivenza in duo per farvi vedere come la gioco Iniziamo subito con un Mortis Non è che sia il top per questa mappa ma diciamo che va bene Siamo benissimo già con quattro power up No ok killato abbiamo sei power up sono ancora in cinque squadre E sto per morire Qua c'è qualcuno No Facciamo una ulti la E non ho colpito nessuno E' una partita un po' tirata ok Cosa fa Mortis Quarta posizione Perché devi andare a pusciare mi chiedo io Vabbè riproviamo Speriamo che ci dio un compagno un po' migliore Tara Chiamo di prendere più power up possibili Evviva siamo morti Diciamo che Tara non sapeva molto giocare Cioè anche l'ho sbagliato Cioè anche l'ho sbagliato però dettagli Un dynamite Doppio lanciatore Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Ecco ho seguito giù mortis Vediamo se c'è qualcuno Ok non c'è nessuno Tre power up speriamo che vada meglio di prima E' fatto abbastanza forte dynamite E' un genio ci colpisce Speriamo che non carichi la ulti Non so perché l'ho fatto Ok Non mi push più Non mi push mi Ok E' importante che non si avvicini troppo E vai abbiamo recuperato le coppie di prima Io ci rigiocherai con dynamite L'ho visto abbastanza forte Allora vediamo Di qua ci sarà sicuramente un team Dopo va a finire come prima A contare Quindi è meglio che Se andiamo Eh vabbè però Dai non c'è dato neanche un power up Grande dynamite che riesce a prendere due power up Vediamo Vediamo se magari qua lato c'è No ok Sono ancora cinque squadre Là c'è una nita con un fre Eh facca però sono stupido Ok muore l'orso No No Ok Muore anche nita Abbiamo cinque e tre power up Vediamo se riusciamo a fare qualcosa su quel frame Ma dubito Ma dubito Mi sa che sta laggando Punisher Mi sa che sta laggando Vado un po' a scatti Sì Bella la super su Frank Ok riesco a prendere un power up Una partita Molto tirata Siamo ancora in quattro squadre Mi sa che Eh ho sbagliato io qua Ah Siamo ancora Siamo in tre squadre Eh niente Non ci rigioco con Punisher Vediamo che Brawler ci dà Una Shelly Diciamo che Non è il Brawler ideale Per questa Però Cioè se ci dà sempre sti spawn Bruttissimi Non ci possiamo fare niente Ma gioca Shelly Ma cosa sto facendo? Bella la super Bella la super Vediamo se riusciamo A fare... Ciao Ciao Ok è andato giù un team Non mi rischio con i power up Ok Rinasce Shelly Eh no Mi sa che questo è un meno tre Eh si è un meno tre A meno che non faccia un miracolo Oddio Zero coppe persi Dove vai? Ma dove vai? Dai Facciamo l'ultima partita per oggi Speriamo di recuperare almeno le coppe che abbiamo perso Vediamo Vediamo Siamo con Il Corvo Buono se Se la sa giocare Vediamo quella scegli dovrebbe andare giù perfetto va giù vediamo se di qua c'è qualcuno nessuno porca vacca ok 3 team rimasti eh no mi sa che un zero coppa persa spero nel più 3 ok se diventa un più 6 no vabbè hai dato la cura sotto ai piedi ok non c'è una super scappa scappa corvo perché ok come mi sono salvato eh no è rinato dai scappa zio si vuole più 3 perfetto abbiamo fatto un più zero e niente io vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella ci vediamo all'un prossimo video ciao 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 ciao